Allora qui in Regione oggi si discute di 106 e di una variante importante e non poteva mancare un consigliere comunale regionale di Crotone l'ascolco che non si occupa solo di donne ma si occupa di investimenti, di infrastrutture. Che succede? La variante del megalotto 6 è una proposta ormai datata che è stata avanzata dall'ingegnere Bevilacqua e dell'Ordine degli Ingegneri di Crotone rispetto ad un progetto che è stato poi sottoposto alla valutazione dell'ANAS di realizzare una strada che oltrepassasse e passasse attraverso i comuni che vanno dall'Alto Marchesato fino a giungere al bivio di Simeri Cricheri e congiungere Catanzaro e Crotone nel giro di 30 minuti. Quindi una strada alternativa che consentirebbe anche di alleggerire il traffico che c'è sull'attuale statale 106 che porta da Crotone a Catanzaro. Quindi sarebbe una strada rivoluzionaria che potrebbe favorire la mobilità del nostro territorio e quindi compattare due aree dell'area centro-calabria che in questo modo si sentirebbero vicine. Questa proposta che è stata fra l'altro raccolta e condivisa da moltissimi sindaci della provincia di Crotone e della provincia di Catanzaro e dalle due amministrazioni provinciali, quella di Crotone e quella di Catanzaro. Quindi parliamo di delibere di consigli comunali e provinciali che allo Stato sono 40. Quindi 40 amministrazioni locali hanno condiviso questa proposta che è stata sottoposta al Governo regionale e è stata valutata positivamente al Governatore Mario Oliverio. Ora si tratta di farla condividere dall'ANAS che dovrebbe inserirla nel proprio piano delle opere triennali 20-23. Quindi c'è l'impegno del Governo regionale a che questa proposta possa essere inserita e quindi realizzata dall'ANAS. La conferenza stampa di oggi è voluta dal Presidente e lo conferma. È ovvio che noi su questo obiettivo non indietreggeremo neanche di un millimetro, lo riteniamo un'infrastruttura propedeutica allo sviluppo del nostro territorio.